Bene cari amici di TC100webtebut.it, siamo qui al parco dell'isola che non c'è a Pieve di Cento per rappresentare una manifestazione importante, è stato consegnato un'assegnone possiamo dire dall'associazione Pieve Skin alla associazione Ageop, è un'importante donazione per una città come Pieve di Cento perché 15 mila euro non sono, non so, andiamo a vedere cosa ci raccontano i protagonisti di questa bellissima manifestazione. Grazie. Allora io inizio, inizio velocemente e allora io intanto grazie per essere tutti qua e oggi è un'occasione veramente super importante. Io sono Balboni Giorgia, sono la presidente di Pieve Skin e dirò a breve due parole però vorrei prima presentarvi tutti gli ospiti che abbiamo oggi. Parto alla mia sinistra perché gioco in casa e abbiamo la vice sindaca Barbara Campanini e proseguo con il gruppo Ageop e continuo col giocare in casa e presento Anna ed Enrico che sono Ageop a Pieve di Cento e poi Rita Patuelli che è la consigliera delegata per Pieve di Cento e Carla Tiengo Grazie. 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 Grazie a tutti fate due parole per ripercorrere un attimo che cos'è stato questo concerto e che cosa è stato al 2024 per noi. Siamo arrivati a un risultato strepitoso e lo vedremo tra poco ma vorrei ricordare a tutti che noi nasciamo come un progetto musicale e che è incredibile quanto la musica possa evolversi e diventare qualcosa di così rilevante a livello sociale e solidale. Vorrei anche quest'anno ricordare, perché non abbiamo fatto in tempo a ricordarlo in sede di concerto, che i pieveschini sono cresciuti, quest'anno siamo diventati un'associazione, siamo partiti con un gruppo di amici e siamo invece diventati un'associazione con iscrizione a RUNS, che è una cosa molto amministrativa, ma vi posso garantire che è estremamente difficile. Arriviamo veramente al nocciolo del perché siamo qua oggi, perché abbiamo il piacere di consegnare ad Ageop il ricavato del concerto di maggio. Sono più di 15.000 euro per l'esattezza, e qua, perdonatemi se sbaglierò la cifra, sono 15.078,88 euro. Quest'anno è stato veramente sfidante raccogliere e confermare quello che era stato fatto nei due anni precedenti con le altre due associazioni, con Ante nel 22 e con Codice Viola nel 23. Abbiamo superato i 15.000 euro in una serata che era tutt'altro che facile. Abbiamo accolto l'assessore alla sanità dell'Emilia Romagna sotto un tendone perché pioveva di rotto, però in quella sede siamo anche riusciti a fare un po' di dibattito, a mettere a confronto un po' di associazioni, a comprendere che in realtà eravamo tutti lì per lo stesso medesimo scopo, che è mettere all'angolo lo scuro passeggero che sfortunatamente molti di noi incontrano sul loro cammino. Ed è questo il motore fondante dei Piedeschi. Buongiorno a tutti, allora intanto vi ringrazio per l'onore che mi avete fatto, perché per me è un onore, è la mia prima uscita da vice sindaca dopo le elezioni, una sfortuna con Vittorio Saluti, sono con Vittorio Cattia, il settore anche qui al comune di Pieri Vicente, ci teniamo in maniera particolare a essere qua con voi, e non nego che ho un'emozione grandissima dentro di me. Uno perché è la mia prima volta, ma due perché siete voi, perché siete voi, ci uniscono dei bellissimi sentimenti, abbiamo visto crescere il vostro gruppo, quella vostra associazione, so quanto bene fate, per cui per me è veramente un onore di me, cioè essere qua e rappresentare il tuo amore, grazie. Carla, vai! Allora, sì, io sono Carla Tengo, presidente di Agio, quando sono venuta per questo bellissimo, veramente, bellissimo e coraggioso anche, spettacolo con della musica, con dei ragazzi giovanissimi, di quelli che ho ascoltato, i giovani, i bravi, tutti bravi, tutto un entourage motivato, proprio carico, veramente, mi ha colpito tantissimo. E quindi, vabbè, in quel momento avevo raccontato di Agiof e di dove avremmo destinato la generosità di Pieve Vicento e di tutti quelli che hanno partecipato, quindi alle nostre case di accoglienza. E all'attività di accoglienza che ha Agiofà da 42 anni, quindi per i bambini e gli adolescenti ammalati di cancro in cura presso il reparto di onconatologia pediatrica del Santoso, la IRCS. E oggi vengo a ritirare con grande commozione e gratitudine quanto ho ricavato e ho portato, ma lo lascerò, non lo leggo perché è brodoso, però ci tenevo a rendere conto, no? Quindi questo è uno straccio, è la pagina con i dati e noi per legge, diciamo, ma l'abbiamo sempre fatto, il bilancio sociale, che è un'altra cosa dal bilancio economico, no? Il bilancio sociale parla proprio della vis, del valore che lasci e degli interventi sociali, nel sociale che fai, e quindi ci sono i dati di quanti bambini e ragazzi abbiamo accolto nel 2023, che iniziative abbiamo fatto, e un po' anche, cioè, le motivazioni, perché c'è sempre oltre l'azione, prima viene il cuore che ti dice è meglio farlo così, lo facciamo colà, a partire proprio dal basso, dai bisogni dei bambini e delle famiglie, no? Quindi tutti i nostri progetti nascono proprio dall'ascolto di chi sta vivendo un'esperienza così, diciamo, difficile. E quindi vi lascio in consegna all'associazione, vi farò avere il nostro bilancio, quando l'abbiamo stampato, sono tante pagine, però... Non è caso, eh? No, è un, diciamo, è un pensiero, come se portassi un regalo all'associazione, perché dentro non c'è solo quello che Agio fa fatto, c'è una modalità di lavoro, c'è una scelta, e quindi per una giovane associazione alla quale io ho fatto in bocca al lupo, avanti tutta, eh? Quindi non ve li sto a leggere, ma li porto a te e ne farai l'uso con tutti che credi. Grazie di cuore, grazie di cuore. Io vorrei solo aggiungere, come che sono una neonata consigliera, e quindi voi siete arrivati a me che da poco mi affacciava a questa nuova attività, e voglio dire che io sono rimasta veramente affascinata dal vostro senso di comunità. Io sono andata a un pranzo solidale e sono tornata a casa e ho parlato di pieve di 100 per me. Ho detto, ma bisogna esportarli, bisogna che... Ma pieve, ma pieve, non perché è pieve di tempo. Perché io sono veramente ammirata, ma lo dico col cuore, senza nessun tipo di retorica, da quello che sapete fare, che riuscite a fare, e da come siete uniti. Perché in un paese così dilaniato, no? L'Italia, cioè, veramente, siete da esportare. E vorrei concludere con una frase che lezzi... Io sono un po' antica, quindi tanto tempo ho fatto un giornale sportivo, quando riuscimmo a vincere o un mondiale o qualcosa, e sul campara a grandi lettere, eroici. Quindi io veramente vi giudico così. Grazie e veramente complimenti per quello che siete. Sì, sì, ma aggiungo una piccola citazione. Nei miei primi anni, insomma, di attività nel sociale, sono stata sempre dentro, insomma, a un discorso di sociale, di volontariato, eccetera. Ci dicevano, nessuna carovana ha mai raggiunto il suo obiettivo, ma solo le carovane mettono in moto. Io più figlio, e quindi i miraggi, meglio ancora, mettono in moto i miraggi. Aggiungo solo una cosa, abbiamo parlato di destinazione all'accoglienza, 15.000 euro, vorrei dare un'idea di che cosa vuol dire. 15.000 euro vogliono dire nove mesi di accoglienza, con spesa, vitto, alloggio, per un bambino o una bambina, o un ragazzo o una ragazza, comunque un tineo, affetti da una patologia curata al Sant'Orsola, e tutta la sua famiglia. È una cosa enorme, enorme. Grazie a voi, senza i donatori. e farei vedere a questo punto l'assegno. Grazie a voi, senza i donatori. Grazie a voi, senza i donatori. Grazie a voi.